è finita così con i tre attivisti due donne e un uomo portati in questura dalla polizia dopo che per lunghi minuti hanno bloccato il traffico in prato della valle all'altezza del foro boario nel sabato di mercato erano circa le 11 quando i tre hanno dato il via al blitz lanciato in contemporanea sui social prima hanno cosparso di vernice arancione lavabile fermano la strada poi si sono spogliati lanciandosi addosso vernice nera una protesta per richiamare l'attenzione sulle politiche del clima e contro le azioni della polizia che un mese fa ha denunciato e perquisito le abitazioni di cinque attivisti una dei quali presente anche stamattina i tre sono stati spostati dagli agenti delle volanti della digos e portati in questura per l'identificazione è l'ennesima azione del gruppo in città che dopo alcuni blocchi del traffico a natale è entrato nella basilica del santo durante la messa solenne ma è stato fermato un blitz è stato messo in atto anche durante la messa di pasqua nella parrocchia della madonna incoronata e poi tre quadri della mostra da monea mattisa palazzo zabarella e durante la padova marathon con vento di più Grazie a tutti